Grazie Presidente. Voglio attirare l'attenzione su quello che potrebbe accadere a breve in una delle più belle foreste italiane, quella del Cansiglio, ubicata tra Veneto e Friuli. Si tratta di un'area di elevatissimo pregio naturalistico facente parte della rete Natura 2000. Proprio in questa foresta, già tutelata dalla Repubblica Serenissima di Venezia, per la prima volta dopo un divieto che dura da centinaia di anni, si aprirà la caccia a centinaia di cervi, voluta dalle province di Treviso e Belluno e dalle regioni Veneto e Friuli. Verranno barbaramente uccise anche le femmine cerve gravide, pronte al parto, come stabilito dai piani di abbattimento. Con il pretesto della sovrappopolazione, contestato dal WWF e da molte altre associazioni, le autorità italiane stanno dando il via libera a queste uccisioni. L'Unione Europea deve vigilare con maggiore incisività per il rispetto delle direttive che tutelano la biodiversità, provvedendo a sanzionare puntualmente tutte le amministrazioni locali che le infrangono. Grazie.